Una culla per la vita e contro l'aborto. Al Policlinico Gemelli di Roma è stata installata una culla termica NINNAO, un'apposita struttura creata per dare accoglienza e salvezza ai neonati abbandonati. Questo è il percorso che, schiacciando un pulsante sul retro del pronto soccorso pediatrico, consente di far alzare una serranda dietro la quale lasciare in una culla il bimbo alle cure dei medici. Abbiamo da sempre, da tanto, in campo la prassi del parto con garanzie di anonimato. Ci sono poi 60 giorni di tempo durante i quali la madre del neonato può ripensarci, riprendere il bimbo, altrimenti, passato questo periodo, verrà avviato l'iter di adozione. Assolutamente le gulle per la vita siano circa 60 in tutta Italia e che praticamente preveda, in linea massima, ci siano tra uno e due neonati l'anno abbandonati da queste donne appunto nelle gulle per la vita. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito del progetto NINNAO, da un'idea della Fondazione Francesca Rava e del network KPMG. NINNAO è un'alternativa concreta che diamo alle donne in difficoltà, che hanno portato in grembo il loro bambino e non sanno che cosa fare, per ragioni sociali, economiche, violenze psicologiche o fisiche ricevute. Crediamo che il progetto, nel suo complesso, il progetto NINNAO, sia un progetto significativo che dà un contributo e un impatto sociale. La culla NINNAO ha avuto la benedizione di Monsignor Giulio Dori. Questa culla è importantissima perché è un segno concreto di accoglienza della vita, anche là dove ci sono difficoltà. Testimonial d'eccezione Raul Bova. Sono contento di essere qui per promuoverla e lanciare questo messaggio che lo trovo veramente molto bello. Il 40% delle mamme che è costretta a prendere questa decisione sarebbe senza fissa dimora. Queste mamme, dal 2000, possono decidere di partorire al sicuro in ospedale tramite un cosiddetto parto in anonimato.